Procedura penale video lezione numero 4 il giudice parte seconda. La ricusazione. La ricusazione prevista dall'articolo 37 e seguenti del codice di procedura penale comporta la sostituzione del giudice ricusato. Ai sensi dell'articolo 42 del codice di procedura penale se la dichiarazione di astensione o ricusazione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. La preclusione temporanea fino e quindi opera fino alla pronuncia della sentenza fino a quando non si sia provveduto sulla decisione di ricusazione. La dichiarazione invece di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice si astiene. I motivi di ricusazione investono i casi di incompatibilità determinati da atti compiuti nello stesso procedimento o da legami familiari tra giudici, la presenza di un interesse proprio, i rapporti debitori o creditori con le parti, talune qualità personali che legano il giudice alle parti, un'anticipazione di giudizio, inimicizia grave con le parti, taluni legami familiari con le parti o i soggetti processuali. Nel caso in cui l'istanza di ricusazione sia fondata sugli stessi motivi di altra già respinta è consentito al giudice pronunciare sentenza. Il giudice può essere ricusato dalle parti, la ricusazione non può riguardare il PM perché è parte e non dotato di terzi età. Proposizione della dichiarazione di ricusazione. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta nell'udienza preliminare fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Nel giudizio fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491,1. Se la causa però di ricusazione è divenuta nota dopo la scadenza dei termini deve essere proposta entro tre giorni. Tipologia dei giudici. I giudici possono essere divisi secondo una molteplicità di criteri. In base alla composizione dell'organo abbiamo giudici monocratici quindi GIP, GUP, magistrato di sorveglianza e giudici collegiali. Oppure possono essere divisi in base al rapporto di impiego, giudici togati e giudici onorari. Oppure ancora per la natura delle funzioni e quindi giudici di merito e giudici di legittimità. Tipologia dei provvedimenti. Deliberazioni, poteri del giudice. I provvedimenti del giudice sono la sentenza, l'ordinanza e il decreto. La sentenza è la decisione che esaurisce il rapporto processuale o una sua fase. La sentenza può avere un contenuto processuale, come per esempio la sentenza di incompetenza, o di merito se si pronuncia sulla fondatezza o meno della pretesa punitiva. La sentenza deve essere sempre motivata appena di nullità. La sentenza inoltre è sempre ricorribile per cassazione, così come prevede l'articolo 111,7 della Costituzione. L'appello talvolta può essere escluso, caso ad esempio dell'articolo 593,3 che rende inappellabili le sentenze che combinano appunto una pena dell'ammenda. Nella sentenza pronunciata in nome del popolo italiano bisogna distinguere l'intestazione in cui sono indicate le generalità delle parti e il giudice che appunto la redige, la motivazione in cui il giudice espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione, e il dispositivo, cioè la sintesi del contenuto della decisione, il PQM. L'ordinanza. L'ordinanza è il provvedimento con cui il giudice risolve singole questioni senza attitudine di definire il processo. Le ordinanze sono sempre motivate appena di nullità e sono revocabili. Il decreto invece è motivato solo se prescritto dalla legge, ad esempio decreti di condanna, decreto di archiviazione, di intercettazione. I provvedimenti invece cosiddetti innominati sono quegli atti del giudice privi di specifica denominazione, ad esempio gli avvisi, gli inviti, gli ordini, le disposizioni. Deliberazione del giudice. Tre modelli. Deplano. Deplano vuol dire senza contraddittorio tra le parti, ad esempio l'ordinanza applicativa di custodia carceraria, oppure quei provvedimenti che per la loro semplicità da adottare vengono effettuate deplano, come ad esempio il decreto di archiviazione. Altro modello di deliberazione del giudice è in pubblica udienza, che è prevista per il dibattimento. La razio è quella di dare trasparenza all'esercizio della giurisdizione nel suo momento più rilevante. E poi un altro modello è il procedimento in Camera di Consiglio, utilizzato nel caso in cui occorre il contraddittorio, ma senza necessità della presenza del pubblico. Il procedimento in Camera di Consiglio è disciplinato all'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando si deve procedere in Camera di Consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data di udienza, dandone avviso alle parti. L'avviso deve essere notificato almeno 10 giorni prima dell'udienza, le parti possono depositare memoria entro 5 giorni prima dell'udienza e il giudice decide con ordinanza che è ricorribile per Cassazione. Poteri coincitivi del giudice sono l'accompagnamento coattivo dell'imputato, ma anche l'accompagnamento coattivo di altri soggetti, di altre persone. Declaratoria immediata di cause di non punibilità. In ogni Stato e grado del processo, se il giudice ritiene che ricorrono i presupposti per il proscioglimento dell'imputato, deve dichiararlo con sentenza immediatamente. La norma si riferisce al processo perché l'azione penale deve essere già stata esercitata. Prima di questa fase il pubblico ministero dovrebbe rivolgere al GIP, quindi giudice per le indagini preliminari, una richiesta di archiviazione. L'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità è disciplinato dall'articolo 129 del codice di procedura penale che prevede alcune ipotesi tassative, e cioè il fatto non sussistente, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituente reato, fatto non previsto come reato, reato estinto, difetto di condizione di procedibilità, anche a norma del novellato articolo 131 bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, così come previsto dal decreto legislativo numero 28 del 2015. Il secondo comma dell'articolo 129 dispone che il giudice, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, deve prosciogliere l'imputato con la formula più favorevole se dagli atti appare evidente che il fatto non sussiste, non costituisce reato o non lo ha commesso. Se vi è una causa di estinzione del reato, ma anche una prova contraddittoria o insufficiente per l'assoluzione a formula piena, nella confusione giurisprudenziale alle sezioni unite nel 2009 hanno chiarito che la prova deve essere chiara e non contraddittoria. Va pronunciata a Declaratoria di non punibilità ex articolo 129 del codice di procedura penale per tutti quei reati investiti dalla recente depenalizzazione operata dai decreti legislativi numero 7 e 8 del 15 gennaio 2016, per i quali è stata già esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore del decreto. In tal senso, stabilisce il decreto, va pronunciata sentenza inappellabile perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Estinzione del reato per condotte riparatorie. Entro e non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento nei casi di reati procedibili a querela soggetta remissione, il giudice dichiara estinto il reato se l'imputato ha riparato interamente il danno cagionato e ha eliminato ove possibile le conseguenze dannose o pericolose. Tale disciplina è prevista dall'articolo 162 ter del codice penale inserito dalla cosiddetta riforma Orlando con legge 103 del 2017. Il giudice prima di dichiarare estinto il reato ha l'obbligo di sentire le parti e la persona offesa. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa ove il giudice però riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Se l'imputato, entro il termine previsto per l'apertura del dibattimento, dimostra di non aver potuto adempiere per fatto a lui non addebitabile, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine non superiore a sei mesi per provvedere al pagamento anche in forma rateale di quanto dovuto a titolo di risarcimento. Il giudice si accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre 90 giorni dalla predetta scadenza imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione resta sospeso. Il giudice dichiara l'estinzione del reato all'esito positivo delle condotte riparatorie. Per quanto concerne i processi in corso alla data in vigore della legge 103 del 2017, il legislatore ha chiedito che il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'imputato, nella prima udienza fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine non superiore a 60 giorni per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione ove possibile delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere per fatto a lui non adebitabile, nel termine di 60 giorni può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine non superiore a sei mesi per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. Il giudice si accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito dalla norma. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione resta sospeso.